Ciao a tutti ragazzi, oggi stiamo andando verso Town Hall e prenderemo un treno che ci porterà al Feederdale Wildlife Park, in cui ho molti considerato lo zoo migliore della zona. Ciao! Il parco si trova a Dunside, vicino a Blacktown, a circa 50 minuti dal centro di Sydney. È aperto tutti i giorni, ad eccezione del 25 dicembre, dalle 9 alle 17. Il prezzo del biglietto è di 29 dollari e 50, ma ci sono sconti sia per gli studenti che per le famiglie. Questo parco è famoso per avere una delle più grandi raccolte di fauna australiana. Non mancano infatti koala, canguri, wallabi, bombati, diavoli della Tasmania e diverse specie di volatili. Al suo interno è possibile avere un contatto diretto con gli animali. Avrete infatti la possibilità di farvi una foto con un koala e dare da mangiare ai canguri e ai wallabi. Durante l'arco della giornata vengono anche organizzate delle presentations, in cui i volontari del parco danno da mangiare agli animali e raccontano alcune curiosità su di loro. A mio avviso il parco merita sicuramente una sosta sulla strada per le Blue Mountains. Ora vi lascio con il resto delle riprese della giornata e vi ricordo di sostenermi lasciando un like e condividendo il video. In più potete seguirmi su tutti i social, trovate i link in descrizione. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!